Una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata aggredita da un cane. La tragedia si è compiuta a Molton Kings in Regno Unito. La vittima è la piccola Alice Stones. Gli ufficiali sono stati chiamati poco dopo le 15 di martedì 31 gennaio dopo che l'animale aveva azzannato la piccola nel giardino sul retro di una casa nella zona. Resta ancora ignota la dinamica che ha portato al dramma. La polizia ha reso noto che il cane è stato abbattuto. Tuttavia, al fine di garantire la sicurezza pubblica, abbiamo preso la decisione di abbattere il cane coinvolto e questo è stato fatto con umanità, ha spiegato un agente. Grazie a tutti.